Gianni Lorenzo Trerè, seconda categoria maschile. La baglietta fatta apposta. L'hai fatto giustissima quello prima? Quasi, 82 cm in più. Tu vuoi i tempi che mi stessi? Allora, 56 cm, ma purtroppo sceglioni di più. Ah, aumenti. Aumenti. Perché nella mia testa è nostra, della troppo veloce. Perché pensi di entrare troppo veloce. Quindi dovresti andare di meno. Esatto. Ma qui io vado di meno e così fado anche di 6 secondi. Mentre in realtà sotto è giusta. Tu devi memorizzarti la tua battaglia. Un po' più del tempo. Probabilmente si è così. Si è così, il tempo. Si è così. Non so, più non c'è proprio il tipo della vita. Invece da qui, metti in mente un tipo di pinigiano. Una forza. Forse ti inquadri meglio quel tempo di rivolta. Questo tipo? Perché se il pensiero a fare più veloce quello che la faccia più piano, mi sbarba. È solo un pensiero. Invece la gamba, la gambate è quella di usci. il pensiero alba. Non so, ma si è così. Se è così. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.